All'euro 8 di questa mattina nella frazione Sava di Baronissi, a seguito di un litigio di cui non si conoscono i motivi, un 63enne titolare di un'officina meccanica del luogo è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da un soggetto in corso di identificazione. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è deceduta poco dopo a causa delle gravi ferrite riportate. L'uomo, poco prima di perdere i sensi, avrebbe pronunciato il nome del suo omicida. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di mercato San Severino e dal nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno, coordinate dalla procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che si sono messi sulle tracce del killer. In segno di lutto il comune di Baronissi ha sospeso tutte le manifestazioni natalizie in programma il 27 ed il 28 dicembre. Un fatto inusuale che ha sconvolto tutta la cittadina, la città di Baronissi, questa mattina intorno alle 7.40 c'è stato questo omicidio di un imprenditore serio, una famiglia per bene, una famiglia che si è costruita e che per anni ha vissuto e vive del proprio lavoro, fatto i sacrifici distenti. E' purtroppo un evento che nessuno poteva prevedere, nessuno si aspettava. E' una tragedia, due colpi di fucile all'indirizzo del titolare della CIMEP, questa azienda che risiede nella zona industriale di Fisciano, ma i titolari sono di Baronissi, è una comunità sconvolta. 27 e 28 il comune chiederà ai concittadini che insomma hanno questo momento di sofferenza, di incredulità, di dolore, di stringersi intorno alla famiglia, una comunità coesa che sente tutto il dolore in questo momento. E credo che il dramma è accentuato anche dalle parole che la vittima prima di ispirare avrebbe fatto alla moglie indicando il nome dell'aggressore dell'omicida, che è un nostro concittadino, che sarebbe, che è, se vero, un concorrente professionale della CIMEP, di Capacchione. Lei conosce entrambi? Sì, persone laboriose, persone, famiglie per bene, una cosa incredibile, una cosa a cui non vogliamo credere. Siamo sconvolti veramente. Sì, persone laboriose, persone, famiglie per bene, una cosa a cui